Il soggiorno romano del ministro Goering. Il duce accompagna l'ospite in visita al foro Mussolini, salutati all'or ingresso nello stadio dei Marmi dall'entusiastica manifestazione di 25.000 organizzati dell'Opera Nazionale Balilla. Dal podio il duce e il ministro tedesco dell'aria presenziano alcune esercitazioni di un'esercitazione di carattere militare svolte da 4.000 fra allievi dell'Accademia di Educazione Fisica e di quella littoria, avanguardisti e balilla.